Musica Bella gente, oggi un video veloce per farvi vedere che si possono fare le montagne russe insieme a Johnny Allora, vediamo un attimo la mappa Il luogo è questo Dove ho io la freccia Siamo più o meno a sud Quando arrivate può essere che ci siano delle persone che vi dicano che la carrozza non funziona Se potete sistemare, bla 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 Non lo so, io la prima volta che l'ho fatta me lo diceva La seconda quando ho ricaricato, no Non c'erano più Comunque vi faccio vedere Allora, venite qui Scendete C'è l'appuntatore Sistemato E ora possiamo andare a farci un bel giro Vediamo se si può fare una foto No Ok, solo in prima persona Peccato, peccato Questi momenti qui sarebbe bello Comunque ragazzi Prima della discesa Inizierà una canzone L'ho inserita io Ho messo anche un leggero riverbero alle loro voci Per riempire un po' tutto il viaggetto Spero vi piaccia il video E ci sentiamo nel finale Per riempire un po' tutto il viaggetto Per riempire un po' tutto il viaggetto Oh merda Cazzo 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 L'hai visto? Che cazzo! Che cazzo! A me ha divertito tantissimo Comunque inserirla in un videogioco è bella come cosa Ti diverti un attimo, spezzi no? Fatemi sapere nei commenti se vi piace Se lo farete anche voi Like, dislike Così mi fate capire se vi è piaciuto o non vi è piaciuto E per ora è tutto Bella dallo scanchi We got the world The prize of a fighter We'll hide beside where you make your stand Rise The prize of a fighter Page de meaning, a ver